Uè non fare il magazzino muffito! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONE! DAIE! Uè bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi anche oggi delle novità incredibili per quello che riguarda il futuro di Fortnite e non parlo di futuro così tanto lontano. Vengono aggiunti giorno dopo giorno nuove righe di codice che ovviamente non sono visibili in game ma che ci lasciano capire per chi sa un po' maneggiare i meandri dei sorgenti quello che starà per succedere. E nel video di oggi parleremo del ritorno di Boschetto. Sì ragazzi perché abbiamo una conferma ufficiale che potrà tornare finalmente in questa season Boschetto bisunto vi farò vedere qualcosa di incredibile ma anche notizie per quanto riguarda il visitatore che comunque è la base della storyline di questa season numero 10 season veramente incredibile per quello che riguarda le modifiche morfologiche alla mappa dobbiamo ragazzi rendere questo omaggio a Epic Games e i nostri ringraziamenti perché in realtà stanno facendo veramente un lavoro assurdo per garantire stili di gioco diversi nonostante si sia nello stesso Battle Royale di sempre. E poi sfide per la settimana numero 6 il nuovo pack non si sa in realtà se sia della prossima settimana o se invece arrivi tra qualche giorno sfide della danza. Ve le farò vedere ovviamente tutte quante. Prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che utilizzano ogni giorno il codice creator XIUDERONE grazie di cuore ragazzi per supportarmi nello shop mi raccomando iscrivetevi in tantissimi al canale e soprattutto attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live. Ma prima vi devo fare la domandina raga la domandina ve la devo fare per forza è una domandina molto interessante che non vi avevo mai fatto e che sono curioso di leggere cosa dite nei vostri commenti. Ma quale collaborazione ti piacerebbe che facesse Fortnite? Dai ne ha fatte tantissime, Fortnite X Stranger Things, Fortnite Avengers, Fortnite Jordan, ce ne saranno altre, ce ne sono altre, Fortnite Toy Story per dire... Con cosa vorresti che collaborasse? Io o a me piacerebbe che facesse una collaborazione con un gruppo heavy metal di fama mondiale? Cioè, Fortnite e i CDC, mamma, che non è heavy metal, è hard rock, però mi vengono in mente se dovessi scegliere... Mi immagino tipo a parco pacifico, palco, giga con la campana di SBES che viene giù... Però vabbè, comunque ragazzi, ditemi con cosa vorreste che Fortnite facesse una collaborazione? Ma quindi, oh caspita, ciancio alle bande! E bando alle ciance, andiamo subito subito a parlare del turbo building ragazzi. Allora, ho pubblicato su Instagram ieri, ho scatenato il panico su Instagram perché mi avete risposto 8.000 visualizzazioni, una roba incredibile. Allora, c'è stato un post che ha pubblicato Fortnite ieri pomeriggio dove ho tradotto male. Sapete che ci sono stati problemi con il turbo building? Avevo capito che loro in realtà non avessero fixato il turbo e quindi ritornasse 0,05 il primo pezzo che posiamo e poi 0,15 ogni pezzo dal secondo in successione. In realtà no, c'è stato qualche problema nel riportare il turbo building a 0,05 per ogni pezzo quindi in queste ore stanno fixando il problema. Se per caso vi trovate in difficoltà nelle costruzioni non preoccupatevi perché il turbo building c'è di nuovo e sicuramente fra poco tornerà a funzionare alla grande. Andiamo avanti con il prossimo argomento ragazzi, le nuove sfide. Un nuovo set di sfide che non c'entra con le sfide della danza arriverà prestissimo e saranno sfide che ci regaleranno stili personalizzabili per il cavaliere del ragno. Davvero facilissime ci dicono, scritto in francese, non parlo francese, fare una partita di battle royale, vuol dire fare una partita di battle royale, atterrare in diversi luoghi indicati. La terza non so veramente cosa voglia dire, fuilar de cofres, non so cosa voglia dire e poi l'ultima sfida invece partecipare o creare o essere ospite di una partita in creativa quindi sfide veramente facilissime che ci regaleranno tutte queste cose bellissime per il nostro cavaliere del ragno bianco e verde oppure nero e verde anche se a me in realtà piace il classico colore rosso e nero. Ma andiamo avanti con il prossimo argomento ragazzi, eccole qua invece, sempre in francese perché non le ho trovate in inglese, le nuove sfide che arriveranno prestissimo, folia della danza, qua è classico, è chiaro, si vuol dire folia della danza, molto probabilmente, adesso qua io non so bene come tradurle però, allora, utilizza una bomba boogie bomb su un avversario e questo è facile da capire. Danza era avanti una stud, declare serious, quella là è sicuramente ballare in un punto indicato, fare un'eliminazione con un fucile a pompa, un fucile d'assalto oppure una mitragliatrice. Probabilmente forse in un'unica partita, non lo so, per questa sfida, fare 100 metri di distanza, quindi correre per 100 metri, trovare un piano gigante, sappiamo che è vicino a rifugio ritirato, forse c'è ancora quello dove c'è la montagnetta di Parco Pacifico, distruggere, interdizione della Dancer, non lo so ma secondo me questa è qualcosa che riguarda la pista da ballo di rampe ghiacciate, perché sapete che l'hanno messa nel secondo bunker, secondo me è per queste sfide e poi danzare a bordo di un brutto, che pistolata. Insomma ragazzi ci regaleranno anche qua probabilmente uno stile personalizzato e un sacco di punti esperienza extra. Ma andiamo avanti con il prossimo argomento ragazzi, il ritorno di Boschetto Bisunto. Noi ridiamo e scherziamo ma molti di voi in realtà non hanno mai giocato a Boschetto Bisunto. Sì perché molte persone si sono unite magari nella season 7 quando Boschetto già non c'era più. Per farvi capire ragazzi cosa vi siete persi e perché noi amiamo così tanto Boschetto Bisunto vi faccio fare un tour velocissimo di quello che era Boschetto Greasy Groove, ovviamente in inglese prima dell'arrivo della neve ed era una city bellissima con dei buoni spazi per fightare, con un sacco di loot, c'era il burger proprio il ristorante del Dur Burger, c'erano altre case, nel finale arrivò sia il camion del Dur Burger che il camion del Pizza Pit e insomma ragazzi Greasy Groove è rimasto un po' nel cuore di tutti i vecchi giocatori perché è una location sicuramente unica e una city che sebbene facesse una vaga concorrenza a Corso Commercio in realtà non è mai riuscita, il Corso Commercio non è mai riuscito ad essere più bello perché ragazzi diciamo che torna Boschetto Bisunto tutto sta dentro questo codice. Praticamente siamo nella sezione, aspettate che tolgo momentaneamente il mio logo là in alto in modo che posso farvi leggere, Frozen Greasy, allora dentro i file di gioco ci sono ovviamente tutte le location che ci sono in game, Frozen Greasy è Boschetto Bisunto ghiacciato, quindi la città di Boschetto Bisunto c'è, nella patch 10.20, non nell'aggiornamento, nella patch 10.20 hanno inserito come vedete là in fondo dove ho messo l'evidenziata Game, Environment, Props, Rift, Beacon, quindi ragazzi arriverà un Rift Beacon probabilmente, anzi sicuramente nel lago ghiacciato ed è probabile che finalmente potremmo rivedere Boschetto, sarebbe bellissimo se ad esempio succedesse quello che è successo al campo da calcio, il Rift Beacon fa un cortocircuito, esplode e spacca per qualche strano motivo tutto il lago ghiacciato, comunque ragazzi aspettiamoci nei prossimi giorni di vedere finalmente un Rift Beacon anche nel lago. Beh ragazzi io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video, mi raccomando un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale, vi ricordo che io sono in vacanza, quindi ci vediamo in live solo la mattina e iniziamo proprio alle 8, ciao! Grazie a tutti!